il mio rapporto con la tradizione è un rapporto importante prima cosa perché viviamo in uno stato l'italia dove abbiamo avuto i più grandi artisti a livello mondiale e poi nell'ambito vergamasco abbiamo avuto dei grandissimi pittori mi sento un pittore tradizionale perché faccio uso ancora del colore olio faccio uso ancora del disegno nonostante io viaggi tra la figurazione e l'astrazione mi sento comunque un pittore tradizionale che ama che ama la sua storia una storia quella di bergamo che è importantissima